Sì, signor Pallazzo? Sì, sono il suo accompagnatore. Sono qui per... Mi scusi. Signor Pallazzo? Sì, sono il suo accompagnatore. Un momento, eh? Siamo pronti a cominciare, manca solo una cosa. Una cosa che ci accomuna tutti. Sì, da nord a sud, ossia l'inno nazionale italiano. E allora tutti in piedi per cantare l'inno d'Italia e poi dare il via alla partita finale di questa non edizione del torneo, se vedevo a terzo tempo. Sì, da nord a sud, ossia l'inno d'Italia. Molta bombs in the air Gave proof to the night And we still had our way The saint of the night And our way over all that And our way our way out And our way out Grazie.